Dopo tutti gli scandali di Chisso, di Forza Italia, del Mose e così via, si doveva prendere in mano la situazione, quello che noi avevamo chiesto, rimettere in discussione tutto e ripartire da capo, cosa che non è stata fatta per logiche carregare e non invece quello che noi avremmo chiesto. Così il giovane deputato veneziano Emanuele Prataviera motiva il suo abbandono della Lega Nord e il suo passaggio tra le fila del nuovo soggetto politico che fa capo a Flavio Tosi. I nostri valori restano gli stessi, assicura, e non escludiamo un'alleanza con Zaia in futuro, ma non potevo più stare nelle fila di una Lega che nonostante le promesse non ha fatto abbastanza per i Veneti. Io ad esempio ero uno di quelli che diceva che bisogna prendere le decisioni forti, tra cui magari anche quella di destinare 14 milioni di euro al referendum per l'indipendenza del Veneto, a cui sono già favorevoli sulla carta secondo i sondaggi il 60% dei cittadini veneti e questo coraggio non si è trovato. Perché? Perché Roma ci mandava a casa, saremmo tornati su con il 90% dei voti.